professore andrea giardina negli esseri umani del ventunesimo secolo l'immagine del colosseo è molto presente e il colpo d'occhio per chi arrivi a roma o per chi lo veda da un'immagine un colpo d'occhio sempre molto emozionante che cosa c'è di invisibile nel visibile nell'ancora visibile del colosseo e questo invisibile di una parte del significato antico e moderno del colosseo è quello che rende resistibile la storia di questo monumento e quello che cercheremo di rivivere oggi proprio questo ma la funzione della dell'anfiteatro flavio è una funzione che si lega anche proprio a un preciso una precisa ragione diciamo nella roma antica e soprattutto anche a una tinta sanguinosa sanguinolenta che poi su cui ha poi lavorato l'immaginario filmico ma qual è il punto è il che per comprendere questo orrore del colosseo i massacri di uomini animali tutte le atrocità che ben conosciamo bisogna ricorrere al significato profondo del colosseo per i romani che è un significato antropologico anche politico che ci porta molto lontano da noi dobbiamo fare uno sforzo per guardare quella realtà distaccandoci dalla nostra sensibilità delle nostre abitudini e forse riusciamo a rendere più familiari ma in maniera diversa il mondo del degli anfiteatri delle arene nella nostra percezione poi perde la sua funzione e resta scenografia ma scenografia inagirabile nei secoli quel fatto di diventare scenografia quanto incide poi nella vita pubblica nel racconto della vita pubblica lungo i secoli se dovessimo così tracciare anche solo rapidamente la parabola e questo questo è sicuramente ricchissimo fa del colosseo il monumento io credo nella storia del mondo che ha più cambiato significato nel corso dei secoli e più significati ha avuto contemporaneamente è stato tantissime cose elencarne lunghissimo cercherò di farlo senza annoiare il pubblico durante la reazione però non c'è nulla di simile questa è vero e vero la cosa rende unico il colosseo nella storia di tutti i monumenti del mondo grazie